Nel nostro tragitto troviamo storie in ogni angolo, diversità paesaggistiche, gastronomia e tanti incanti che in ogni luogo ci offre, qualcosa che sempre più ci invita a condividere con voi queste bellezze, anche presso la Sacra di San Michele a Sant'Ambrogio di Torino. Non vi racconteremo tutta la storia, lasceremo al vostro apprezzamento e la vostra scelta vi coinvolgerà nell'ambito storico, religioso, geologico, gastronomico, escursionistico. Tutto ciò che questo imponente e spettacolare complesso architettonico ci offre. In nostro recorrido troviamo storie in ogni angolo, diversità paesagistica, gastronomia, e i moltiplici encanti che ci offre ogni luogo. Algo che ci invita ogni volta più a condividere queste bellezze con voi, anche la Sacra di San Michele in San Ambrosio di Torino. Non vi racconteremo tutta la storia. Dejaremo a vostra apprezzazione e vostra elezione. O se envolverà in il conjunto storico, religioso, geologico, gastronomico, senderista, tutto lo che ci offre questo imponente e spettacolare complesso architettonico. La Sacra è uno dei più antichi luoghi di culto dedicato all'Arcano. San Angelo Michele. Etapa di una via di pellegrinaggio che va da Mont Saint Michel in Francia a Monte Sant'Angelo in Puglia. All'interno della chiesa principale sono sepolti membri della famiglia di Casa Savoia. È un complesso architettonico eretto sulla sommità del Monte Pirchiriano, alto 962 metri, allo sbocco della Val Susa. Luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il bestseller Il nome della Rosa. La Sacra di San Michele è una delle costruzioni monastiche più spettacolari. Si erge sulle rocce a sfidare le ingiurie del tempo e della natura. Quando guardo questa meraviglia, vedo come uno specchio della vita edificata su forti basi. La Sacra è uno dei luoghi più antichi di culto dedicato all'Arcano Michele. È una fase di una via di peregrinaggio che va da Mont Saint Michel in Francia al Mont Saint Angelo in Puglia. Al interno di la principale, sono spettati membri della famiglia di Casa Savoia. È un complesso architettonico construito in la cima del Monte Pirchiriano, con una altra di 962 metri, in la desembocatura del Valle di Susa. La Sacra di San Michele è una delle costruzioni monastiche più spettacolari. Se levanta sulle sulle rocce per fare le stagioni del tempo e la natura. Quando guardo questa meraviglia, vedo come un espello della vita edificata su forti basi. Eccoci alla conclusione. Se desiderate, seguite il video. Iscrivetevi al nostro canale. Vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi. E se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci. Realizzeremo con voi video spettacolari, anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto. Luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il bestseller. Si è ispirato, ispirato. La Sagra di San Michele è una delle costruzioni. a presto. Cosa che? Cosa su cheve Cosa che è? Sarai il fumo di mia